In occasione del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, solennità civile nazionale istituita con la legge 92 del 30 marzo 2004, il Comune dell'Aquila ha promosso oggi una serie di iniziative per conservare la memoria del decidio che ha colpito migliaia di italiani nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. La giornata, aperta con la deposizione di una corona d'alloro alla rotonda di piazza d'armi, è stata dedicata come sempre alle scuole, con un evento all'auditorium del parco. Ricordo, storia, futuro. Sul palco gli attori Giuseppe Tomei, Roberto Ianni e Benedetta Talluto con le musiche da camera a cura del baritono Michele Patti, accompagnato dalla pianista Laura Sebastiani. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il convolgimento dell'ufficio scolastico regionale. Molto importante per i ragazzi farli partecipare ad iniziative del genere, così come è stato per la giornata della memoria, spiegano i docenti. Credo che sia un atto dovuto sia a chi ci ha preceduto, sia a chi verrà dopo, perché credo che fare memoria non è soltanto ricordare, ma è immergersi un po' anche a livello empatico con quello che hanno passato e chi ci ha preceduto nella storia. E poi, per fatti così dolorosi, credo che sia ancora più doveroso ricordare che cosa è successo, perché è successo, sperando che non succeda più. E quindi è più che un insegnamento di storia, credo che si tratti realmente di educazione civica. Ecco, spesso si demonizzano le giovani generazioni, sono interessate a questi episodi? Cioè, l'interessa sia in classe che poi in queste iniziative? Sicuramente hanno un bombardamento da parte dei media che li distoglie un po' da queste tematiche importanti. Il nostro compito è quello di cercare di metterli in carreggiata, comunque di far sperimentare loro che non esiste soltanto l'intrattenimento, ma esiste anche la riflessione e queste giornate, questi ambienti, la realizzazione di una pièce teatrale o di un concerto di musica da camera possono essere spunti di riflessione per confrontarsi con un linguaggio che è diverso da quello che ascoltano quotidianamente dai media.